Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video recensione. Voglio recensirvi due prodotti della stessa marchio. Ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende, quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al lattosio oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando. Questi prodotti, ripeto, non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io. Sono il latte Zimil senza lattosio e lo yogurt Zimil senza lattosio. Perché faccio la recensione di entrambi contemporaneamente? Perché penso che sia più giusto recensirveli insieme in quanto che con questi prodotti riesco a produrre altro yogurt. Partiamo dal latte Zimil. Il latte Zimil è uno dei marchi più famosi che produce latte senza lattosio. Forse è stato proprio uno dei primi, se non il primo, a fare il latte senza lattosio, quindi più digeribile, adatto a chi come me ha problemi di intoleranze alimentari grave. Io ho un'intoleranza alimentare al lattosio molto elevata e all'inizio, quando ho scoperto di avere questa intoleranza, non toleravo neanche questo. Questo latte contiene latte 1% di materia grassa OHT a lunga conservazione senza lattosio, meno dello 0,1%. Io all'inizio non riuscivo a tollerare neanche questo 1%. Ovviamente ogni persona è diversa dall'altra. Ognuno di noi se ha un problema di alimentazione, come per esempio l'intoleranza al lattosio, l'allergia alla caseina, vi parlo delle mie perché sono quelle che conosco naturalmente, non sono un medico, non sono un'esperta, però sono un'intolerante allergica da oramai 12 anni. 2004, 2017, quasi 13 anni. Insomma, ho imparato, tra virgolette, a mie spese e consultandomi con i miei medici, che dovevo fare volta per volta delle prove. Non c'è scritto da nessuna parte, quel prodotto va bene, quel prodotto va male. Diciamo che indicativamente i prodotti senza lattosio, perlomeno quelli che ne contengono una bassissima quantità, dovrebbero andare bene per chiunque, prodotto. Ma non sempre così, quindi bisogna stare attenti, bisogna consultare sempre il proprio medico e bisogna appunto fare queste prove, magari a casa, provando ad assaggiare un po' di quel prodotto specifico e vedere pian piano, aumentando la dose, come il nostro corpo, il nostro organismo reagisce. Torniamo all'Atlisville. Allora, questa è una confezione da mezzo litro, siccome lo bevo soltanto io a casa, non mi serve acquistare quello da litro, io questo in tre giorni lo faccio fuori, e quello da litro andrebbe a male presto, è a lunga conservazione. Ovviamente non prendo mai, praticamente mai, sì, non ho mai preso il latte intero, perché è sempre nella confezione grande. Allora, cosa dice l'etichetta? Dove sta? Lattosio, meno dello 0,1 grammo su 100 ml, contiene glucosio e galattosio. Zimil è dedicato a chi ama le cose buone e leggere e a chi ha difficoltà nel leggere il latte, perché la maggior parte del lattosio viene scissa nei suoi due componenti più facilmente assimilabili, glucosio e galattosio. Conservare il luogo fresco e asciutto, una volta aperto la confezione, tenere il frigorifero da 0 a più 4 gradi e consumare entro 3-4 giorni. Un eventuale imbrunimento del prodotto è del tutto normale e non altera le caratteristiche nutrizionali. Da consumarti preferibilmente entro, vedi la data indicata sulla confezione, e va bene. È un prodotto della Parmalat, su Parmalat non mi soffermo, è un prodotto ad alta digeribilità, senza lattosio, buono digeribile, questo è quello col tappo arancione, poi ce ne sono altri, col tappo verde, che è quello parzialmente scremato, e ne ho visto uno col tappo rosso, però sinceramente non l'ho provato e quindi non so che cosa dirvi su quello. Lattosio 0 più digeribile per davvero, rispetto al latte con il lattosio quello classico, e ovviamente si riferisce al latte Parmalat. Università degli studi di Parma, in collaborazione con Parmalat, controlla regolamente il latte Zimil a garanzia della sua qualità, certificandone i valori nutrizionali. Dichiarazione nutrizionale per 100 ml di prodotto, vediamo se c'è altro scritto, no, ok, non c'è scritto nient'altro, quindi è latte delattosato e quindi è il latte normale a cui hanno tolto la maggior parte del lattosio, ovviamente quando un latte è delattosato vuol dire che non è completamente privo di lattosio, e infatti lo scrivono, c'è lo 0,1% di lattosio all'interno. Al momento io riesco a tollerarlo. Più o meno l'anno scorso ho provato a realizzare lo yogurt in casa, a visto che mi hanno regalato la yogurtiera e ho avuto un ottimo risultato, mi è piaciuto molto, lo yogurt fatto in casa delattosato senza lattosio o con il latte di capra come nel video che vi lascio su nelle schede informative, lo yogurt là è ovviamente più lento rispetto a uno yogurt normale, anche rispetto a quello nella confezione che conosciamo tutti quanti da supermercato, però è buono, personalmente mi è piaciuto perché comunque mi piace lo yogurt da bere, è leggero e molto spesso non ha bisogno di essere zuccherato. Quindi questo è il latte. Passiamo ora allo yogurt della Zimil, questa è una confezione da due vasetti da 115 grammi, quindi 230 grammi totali. La confezione dovrebbe costare un euro 19 come nel prezzo consigliato. Io l'ho trovato in offerta a 79 centesimi. Due confezioni, due barattolini 79 centesimi. Era in promozione? Sì, non è perché stava per scadere perché oggi è precisamente il 13 di febbraio e questo scade il 13 marzo e io l'ho comprato due giorni fa, quindi comunque non sta per scadere, non è di quelli in promozione lampo perché lo devono consumare in quanto devono smaltire la merce in scadenza. Era in promozione e l'ho pagato di meno. Zimil, alta digibilità, senza latte osseo, yogurt bianco classico. Con Zimil puoi finalmente goderti il delizioso gusto dello yogurt senza sentirti appesantito. Il lattosio normalmente contenuto nello yogurt, circa il 3,5% può essere assorbito con difficoltà dall'organismo nel caso in cui il lattosio ponga problemi di digeribilità, come nel mio caso. Zimil invece contiene meno dello 0,1% di lattosio perché la maggior parte viene scissa nei suoi componenti più facilmente assimilabili. Stesso discorso del latte. Lattosio meno dello 0,1 grammo su 100 grammi. Contiene glucosio e galattosio, come componenti più facilmente assimilabili derivati dalla scissione del lattosio. Parmalat ricorda che una dieta varia, equilibrata e uno stile di vita sano sono la base del tuo benessere quotidiano. yogurt parzialmente scremato senza lattosio, meno dello 0,1% con zucchero. Ecco perché ecco perché non riempio. Ora mi spiego tante cose. Io di solito metto lo zucchero praticamente ovunque perché non mi piacciono le cose a mare. Anche il caffè lo prendo molto zuccherato. In questo caso non riesco a mangiarlo zuccherato perché poi lo sento troppo dolce. Contiene zucchero, semplice. Ingredienti. Yogurt. Latte parzialmente scremato senza lattosio, meno dello 0,1%. Fermenti lattici. L. Bulgaricus. L. Bulgaricus. Vabbè, sono impronunciabili. Fermenti lattici impronunciabili, sono delle cose stranissime. Zucchero 6%. Non so se la macchina mette a fuoco, non ne ho idea. B. Bulgaricus e Thermophilus. Non ho studiato né greco né latino, non so cosa sia. Non so neanche se è greco o latino. Conservare in frigorifero 0,4 gradi. Da consumarsi entro la data indicata sulla confezione. Contiene due vasetti. Non vendibili separatamente. E quindi la mia recensione su questi due prodotti non può che essere una recensione positiva e io li consiglio. Anche se dopo 12 anni. Non perché ci sia stato chissà quale cambiamento, ma soprattutto perché io in quel momento non riuscivo a tollerare il lattosio di nessun genere, di nessuna quantità, sempre dopo che avete consultato il medico. Io non vi sto dando consigli sulla vostra alimentazione, vi sto dando dei suggerimenti, solo sulla base della mia esperienza. Non sono un medico, però vi dico, dopo che avete consultato il vostro medico, se volete provare questi prodotti, fate un tentativo. A piccole dosi, ovviamente. La mia recensione termina qui. Spero che vi sia stata d'aiuto. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Vi lascio giù nell'info box tutti i link per seguirmi sui canali social che vedete qui in sovraimpressione, ai quali sono registrata. E mi raccomando, continuate a seguirmi. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video. Ciao e alla prossima!